Per quanto possa sembrare strano, un po' prima di quel tempo ero sceso improvvisamente e senza sforzo considerai da 320 grani di opio, c'è 8000 gocce di lautano al giorno a 40 grani, cioè un'ottava, istantaneamente, come per una magia, la nube di profondissima malinconia che pesava sul mio cervello, come certi vapori neri che ho visto dileguare dalla cima di una montagna, se ne andò in un giorno, Nixuamero, fece vela con le sue bandiere nere, improvvisamente, come una nave arenata che si è spinta via da una marea di primavera, una marea che muove tutto quanto, se appena si muove, ora, dunque, ero di nuovo felice, prendevo solo mille gocce di lautano al giorno, e cosa sono mille gocce? Un'ultima primavera era venuta a chiudere la stagione della giovinezza, la mia mente funzionava a dovere, come mai prima leggevo di nuovo Kant e di nuovo lo capivo, o credevo di capirlo, di nuovo un senso di piacere si diffondeva su tutto ciò che mi circondava, e se qualcuno, venuto da Oxford o da Cambridge o da qualche altro posto, mi si fosse annunziato nella mia casetta, senza pretese, l'avrei accolto col ricevimento più sontuoso che la mia povertà avesse potuto permettere, qualsiasi altra cosa mancasse, per la felicità di un saggio, di laudano gliene avrei dato quanto ne avesse voluto, e in una tazza d'oro, un giorno, bussò alla mia porta, un malese, che cosa avesse mai da fare un malese tra le montagne dell'Inghilterra? Non lo so, ma forse egli era in cammino per un porto a circa 40 miglia, la serva che gli aprì la porta era una ragazza nata e cresciuta tra i monti, che non aveva mai visto un costume asiatico di nessun genere, il turbante dell'estraneo, perciò la confuse, non poco, e non si sarebbe potuto immaginare un quadro più sorprendente del bel volto inglese, della ragazza, di un biondo squisito e del suo atteggiamento fiero ed eretto, in contrasto col malese dalla pelle scura ed un giallo bile che l'aria del mare aveva come smaltato di venature di mogano, con i suoi piccoli occhi instabili e ardenti, le sue labbra sottili, i suoi gesti di schiavo in adorazione, aveva proprio un aspetto feroce, stette disteso sul pavimento per circa un'ora e poi proseguì il suo viaggio, quando stava per andarsene, gli regalai un pezzo doppio, avevo concluso dentro di me che l'oppio a lui orientale doveva essere familiare e l'espressione del suo volto mi convince che non mi sbagliavo, non di meno, mi sentì un po' costernato quando lo vidi portare improvvisamente la mano alla bocca e mandar giù tutto, come dicono i ragazzi, in un boccone, ne aveva fatto tre pezzi, ce n'era abbastanza per ammazzare tre dragoni con i loro cavalli e mi sentì un po' allarmato per quel povero viaggio, ma che cosa potevo farci, gli avevo dato l'occhio per compassione della sua vita solitaria, riflettendo che se era venuto a piedi da Londra doveva essere circa tre settimane che non scambiava parola con un essere umano, non c'era nemmeno da pensare a violare le leggi dell'ospitalità e farlo prendere, fargli inghiottire un emetico, l'avremmo spaventato, gli avremmo fatto immaginare che stavamo per sacrificarlo a qualche idole inglese, no, era chiaro che non c'era niente da fare, se ne andò e per qualche giorno io fui inquieto, ma siccome non sentì mai dire che si fosse trovato un malese morto, mi convinse che egli era abituato all'oppio e che dovevo avergli reso il servizio che mi proponevo, gli avevo dato una notte di tregua dalle pene del vagabondaggio.